Le battaglie sul tema della criminalità non possono essere combattute soltanto dalle forze dell'ordine e soprattutto sul piano eminentemente repressivo. Io credo che in questi fenomeni immaginare che situazioni di apparente normalità o di tranquillità siano il preludio per la risoluzione del problema credo che ci porterebbero su un terreno assolutamente non corretto. Sono cose che in un certo qual modo non ci lasciano sorpresi, sono cose che ci inducono ad aumentare la nostra attività, a far sì che la nostra presenza sia più massiva e massiccia. Perché ripeto, il tratto di strada è ancora lungo dal percorrere, però anche su questo veramente non lasciate a noi soltanto l'onere principale di affrontare questo tipo di problemi.